Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, checliccio, se voi direte di nuovo, sì, di nuovo perché non voglio, anche io di chiacchierare un po', e niente, come state? Spero bene, e non vedete un po' più a chiacchierare un po' con voi, oggi è fatto abbastanza caldo, quasi tutti i giorni fa caldo, ma vabbè. Allora, io tra un po' mangio, ma sono le 19, sono le 7.09, ve lo sto dicendo dal telefonino, dall'altro telefonino che ho, ma vabbè. E niente, allora, comunque sono stata piuttosto bene oggi, sono uscita poco niente di casa, ovvero quasi nulla, perché oggi per me era per la giornata di riposo, per me quasi sempre di riposo, quando c'è da fare molte cose in casa, le faccio tranquillamente, anche senza averne voglia, ma le faccio lo stesso, e nulla. Guarda, guarda, sto registrando? Sì, sto registrando, ok. E niente, ho preso un cavalletto da tavolo, sì, da tavolo, per registrare i video in full HD, HD, ovvero, non in full HD, in HD, e montare in, non dico 4K, ma quasi, perché in 4K credo che non me li monti per niente, quindi ho bisogno di una cosa che mi monti in 4K, ma io dico di no, vabbè, no commenta, c'è un pedale. Sì, perché in 4K, oh, scusate, sto tramando, andare in 4K dovrei pagare un, come dire, un programma a pagamento di editing, non mi va, perché non me la sento, non me lo posso permettere, però ci tenevo arriva a dire che mi piace editare i video, ma non so cosa ne ciro a fuori, comunque vabbè, niente, quindi nulla, già. Quindi, ragazze, questo video lo continuo a riregistrare, non è l'ennesima volta che lo sto registrando, però oggi mi è entrata nel pallino di registrare di nuovo un altro video, e questo è il secondo che sto registrando stasera, verso le 7, intorno alle 7 e 11 minuti, e comunque, niente, ragazze, era per dirvi tutto lì, che avevo intenzione di registrare sto video, sono tutta, ma sto guardando il telefono a vedere se c'è qualcosa di nuovo, ma non credo, va, 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 va beh, niente. E, va beh, comunque, vuoi che mi raccontate di bello? Io nulla di che, sto cercando di abituarmi a questi telefonini che ho, che fanno un po', non dico schifo ma quasi, però mi devo anche adattare a quello che ho, ovviamente. Non è che posso pretendere più di tanto, perché non sono nelle condizioni di pretendere da me stessa ma anche per i miei familiari, quindi mi devo adattare a ciò che mi viene dato, ovviamente. Tipo se mi fanno un regalo lo devo accettare, se non mi piace, dico no, non mi piace, non lo voglio e punto, finisce lì. Se invece è un regalo che magari lo apprezzo molto, perché no, lo accetto volentieri se è nelle mie corte, se mi aggrada molto. Ma no, per fortuna non mi è mai capitato, quindi non devo, non, come dire, non mi è mai capitato un regalo che non mi piacesse, quindi qualche volta è capitato, ma non ho detto nulla, mi sono stata zitta e anche lì ho un po' sofferto per questo regalo, nel senso che non potevo dire nulla, perché lì l'ha fatto veramente col cuore, non è l'unica, ma ho detto vabbè, me lo potevo anche chiedere cosa volevo, ma lì sono stata zitta e a Cairo che non l'aveva fatto, quindi nulla, me l'ho tenuto. Era un cosmetico, ma in realtà è anche più una cosa, un accessorio, quindi sia tra cosmetico e accessorio, mi piaciuto più l'accessorio che il cosmetico, però vabbè. E raga, cose che possono capitare, poi tra l'altro volevo avvisarvi che i video da qui davanti li pubblico uno sì e uno no, perché dipende qualcosa da fare, non posso stare sempre col telefono in mano, sì, potrei stare, ma su Instagram, TikTok e Facebook cosa non sto riuscendo a fare, ma ci dovrei riuscire in poco tempo a registrare questi video o foto su Facebook e Instagram tramite e TikTok. Ciao. Allora ragazze, e vabbè, aspettate un secondo, ok, siamo 5 minuti a passare i video, scusa se di tanto guardo, ma voglio sapere a quanto sto arrivando di minuti i video, perché sto registrando con la fotocamera posteriore e non con la cattelica della frontale, ecco perché vi vedete più nitida, più pulita nello schermo, quindi nulla, questo è quanto. Quindi niente ragazzi, era solamente per dirvi che, non so come dirvi, che forse sono persa ragazzi, scusate, stavo guardando una cosa sotto la telefona, mi erano chiaramente rotto e guardate, questa è la vita, ragazzi, la vita è reale. Cosa volevo dire? Ah, sì, appunto, ancora, mi sto facendo tremare questo tavolino. Allora, sì, tutto sommato avrei voglia di caricare più video, ma devo essere più caricati bene, nel senso che fatti bene, io non li faccio tanto bene, ma mi voglio impegnare, perché so che mi possono piacere, anche se alcune ragazze, non dico a voi, persone che non mi piace mai i miei video, non li guardano, li guardano un pezzo, poi chiudono e basta, e stoppano il video. Sarò noiosa, non lo so, farò video di tutti uguali, me ne frega niente, perché questo YouTube è un hobby, non è un lavoro. Io ho un lavoro, non ce l'ho, non mi posso permettervi di averlo, ma non mi devo giustificare con nessuno, già ripeto, e ripetisco di nuovo che non posso permettermi di lavorare, ma sto bene così, tanto più lo dico più, chi se ne frega, la gente mi occupa in diretta, quindi vi devo dire, ragazze, fate come vi pare, insultate, ma questa è la realtà dei fatti, io non posso lavorare, poi voi direte, ah scusate, 33 anni e non ti puoi permettere, per cosa c'è che non puoi lavorare, se non ho capo le mie se permettete, boh, non ho capito. E comunque, un lavoro ce l'ho, sono una casalinga doc, sono una casalinga a tempo pieno, quindi mi sta bene così, se permettete, ok, non lo dico in alle scritte, lo dico sinceramente agli haters, perché sono loro che puntano sempre sulla situazione, sempre da puntualizzare sulla situazione, questo è un olore che mi sta tanto bene, però va bene, ciao Pedro. Niente ragazzi, tra un po' è ora di mangiare, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un altro momento, non lo so, giorno, non ho idea. Questo era un breve video per salutarvi e niente, nel frattempo vi faccio vedere anche la mia roba mare, perché ho preparato anche la borsa per il mare, aspetta qua, questa è la borsa per il mare, questo è il mio portaocchiali da vista, perché se non posso vedere cosa posso vedere, il mio costumino che me l'ha comprato mia monna alle bancarelle di Palau, vabbè, niente di tutto ciò, e nulla. Mi piaceva molto e me l'ha voluto comprare, mi è piaciuto tantissimo, quindi non vedo perché, non vedo come prendere un costume intero, molto bello, mi piace, mi veste bene, mi veste proprio, non dico a pennello, ma siamo lì, bello, sì, mi sta benino, dai, è bello, mi piace molto, questi sono i dettagli, anche dietro è bellissimo, mi piaceva morire. Poi, vabbè, la scena mano è sempre, è un po' vecchiotto, era di mia madre, ma mi piace un casino, non lo voglio portare, senza fare troppi i triangoli, e questo è. Tante mani, Kiko, perché ho le mani molto delicate, mi scrivono che non ce le da nessuna parte, poi, ovviamente, per spazzolettini, per soffrire il naso, o per pulirmi anche le mani, non si sa mai, e mi è, mi sa che c'era qualcosa delle mani molto scrivevole, con proprio dettaglio, e poi, siccome qua la crema potrebbe fare un casino, mi ho messo una pochettina, che mi sostiene la crema, ve la faccio vedere, è questa qua, si mi esce, e questa è della Vichy, Vichy 50 e più, vedete, corpo e viso, non importa, basta che mi abbronzo, non mi brucio, tutta quanto, come è successo una volta d'estate, una scorsissimissima estate, che mi sono bruciata per benino, già basta e avanza, quando sono andata proprio nella doccia, ne ho dette di tutti i colori a me stessa, perché mi sono messa senza né protezione né niente, cioè, mi sono auto-insultata, praticamente, ha detto, come la, ma che cacchio hai combinato, a ridurti all'ucertolina, potevi anche metterti sotto l'ombrellone, no, perché tanto ce n'è altre persone a mettersi sotto l'ombrellone, vabbè, non conto, no, non so che, però vabbè, dettaglio, e niente, questa è la mia borsettina a mare, che a breve porterò, e questo, spero che vi piaccia, questa è la borsettina, appunto, con questi due manici, che la fate portare o così, a tracolle, lei si tracolla a braccio, o a mano, io ho deciso di portarla a mano, ovviamente, ma la porterò sicuramente, bene, ragazzi, questo era tutto, adesso ricontrollo a quanto tempo sono arrivata, alle 7.20, bene, sono le 7.20, io mi congelo da questo video pre-registrato, perché lo pubblico all'istante, e va a dire, a 11 minuti di video e passa, bene, ragazzi, un bacio, like se vi piace questo video, commento, e ciao, a presto, un bacio, iscrivetevi, si mette la campanella, e bye bye, ciao, buona cena a tutte.